con la pinzetta mio fratello è paralizzato e io sono apicoltrice ogni giorno seleziono 10 api le prendo una per una con la pinzetta e gli faccio pungere mio fratello comincia dalla radice del collo e scendo ai deltoidi ai pettorali e via via all'inizio mio fratello aveva paura e dolore adesso ha soltanto dolore poi si sente molto meglio commento la malattia che conduce ad una progressiva immobilità è il riverbero nel piano fisico di una immobilità interiore questa malattia alla funzione di scristallizzare il nostro intimo e di aprirlo ad una nuova ampiezza